tutte le nazionali europee hanno lottato per partecipare all'europeo di pallavolo 2013 16 squadre ce l'hanno fatta ora c'è da trovare la migliore la ventottesima edizione dei campionati europei è organizzata dalla danimarca e dalla polonia in polonia si giocherà a gdansk e gdynia in danimarca ad orens ed herning i playoff e quarti di finale ad orus gdansk e le quattro migliori squadre poi andranno a copenhagen copenhagen è facilmente raggiungibile da ogni parte d'europa in aereo treno nave bus o macchina ed è anche facile trovare un alloggio in città si trova di tutto dal becchia 5 stelle fino a 2 stelle e campeggi le semifinali e finali giocate allo stadio parken saranno un evento storico normalmente qui ci gioca una zona di calcio e sono stati ospitati tra gli altri concerti di madonna justin bieber e take that ma ora tocca la pallavolo l'europeo di pallavolo 2013 non sarà solo un evento sportivo di livello mondiale sarà anche una festa per tutti gli appassionati di volley in europa all'interno del parken vi sarà un enorme fan zone con musica intrattenimento mangiare e bere non perdete di questo evento storico per acquistare i biglietti e per maggiori informazioni visitate il sito www.eurovolley2013.tk www.eurovolley2013.tk